Si sta alzando il vento e la marea sta alzandosi anch'essa e l'acqua sta sempre più debordando qui davanti a Scala Reale, davanti a Piazza Unità e sta piano piano raggiungendo altre zone. Quindi segnaliamo che la marea continua a salire e sta invadendo di fatto la banchina ancora di più rispetto a come raccontato prima. Così questa mattina sulle rive di Trieste durante il picco di alta marea annunciato per oggi, situazione sotto controllo ma allarme che ancora non rientra per quanto concerne il pericolo acqua alta e mareggiate. Il marcato fronte atlantico passato tra la notte scorsa e stamattina è stato seguito da venti di Scirocco e Libeccio. Infatti abbiamo dovuto indossare i trombini proprio perché non è tanto la marea alta che si comunque si sta alzando quanto l'intensità delle onde che di fatto, guardate che onde, stanno portando direttamente l'acqua in strada, verso la strada. Hanno lasciato le transenne per dire alle persone, insomma per far capire di non attraversare perché il pericolo è che possa allagarsi completamente mollo audace. Breve tregua domani per quanto concerne il rischio maltempo mareggiate acqua alta perché una rimonta anticiclonica dovrebbe favorire più stabilità. Ma si tratta solo di una parentesi, nuovo allarme da giovedì con piogge abbondanti e scirocco sulla costa che tenderà ad aumentare di molto verso sera. Tendenza che dovrebbe valere anche per venerdì con il vento forte da sud e dal pomeriggio si aggiungeranno rovesci e temporali sparsi sulla costa, specialmente nell'area triestina.